Benvenuti amici, un saluto ai risultati di 1990. Siamo qui con un nuovo video, oggi vi porto una giovane promessa del Watford che è arrivato dal Fluminense in questa sessione di mercato. Parliamo di Richarlison, giocatore che è vicino ad altre grandi squadre come Paris Saint Germain, Milan, Inter e così, invece alla fine ha scelto il Watford. Allora, nome Richarlison, De Andrade, noto come Richarlison, io insomma il nome in partito ho messo Richardson, perché comunque quando c'è la telecronaca è simile, poi io ovviamente la telecronaca non la uso, però perché la volesse usare, ci potrebbe stare. Il nome sulla divisa è Richarlison, Brasile-Watford, attaccante, amnala a sinistra, maglia 11, piede destro, è nato il 10 maggio del 1997. Aspetto, 179 x 71 kg medio, carnagione, andiamo a mettere terza, questa la quarta, capelli, stile lunghezza, andiamo afro, andiamo a prendere moicano afro, colore capelli, mettiamo nero, stile barba, mettiamo senza barba, ovviamente colore barba, nero. Sopracciglia, posizione sopracciglia alte e in dentro, forma sopracciglia allargate e sottili. Occhi, taglio degli occhi, su e distanti, su. Dettaglio occhi 1, cadente, in fuori. Dettaglio occhi 2, aperta e larga. Colore occhi, marrone. Orecchie, posizione orecchio in fuori. Tipo di orecchio, normale. Naso, posizione naso largo e basso, largo e basso. Tipo di naso, normale. Profilo naso, curva in fuori, grande in dentro. Narici, allargate e basse. Dettaglio narice, allargate. Guance, posizione zigomi, alti e piatti. Tipo di guance, piatte. Bocca, posizione bocca, larga e su, sopra e in dentro. Labbra, ricurvo spesso, spesso e dritto. Stile labbra, giù. Mascella bassa e definita. Mento, lungo, squadrato, in dentro. Questo ragazzi per quanto riguarda l'aspetto di Richarlison. Accessorio, vabbè, insieme a quello che volete voi. Passiamo alle categorie. Attacco, cross 65, finalizzazione 80, testa 70, passaggio corto 75, tiro al volo 65, piede debole 3. Difesa, marcatura 35, contrasto in piedi 30, scivolata 40. Abilità, dribbling 75, effetto 55, punizione 50, passaggio lungo 55, controllo palla 75. Potenza, potenza di tiro 70, elevazione 70, resistenza 75, forza 75, tiro dalla distanza 75. Movimento, accelerazione 70, scatto 80, agilità 70, reattività 55, equilibrio 60. Mentalità, aggressività 60, avversità tattica 30, posizione di attacco 75, visione 65, rigori 75. Infine, portiere così. Quindi ragazzi, il video termina qua. Questo per quanto riguarda le caratteristiche di Richarlison, nuovo giocatore del Watford, proveniente al Fluminese. Continuate a commentare, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, commentate ad altri giocatori che vorreste che io vi porti nel canale. I giocatori arriveranno presto, ovviamente siamo più o meno ad un mese e mezzo, potremmo dire così, dalla uscita di FIFA 18, che quest'anno sembra veramente, veramente importante, come le novità nella carriera, per esempio l'introduzione delle clausole e tante, tante altre cose. Quindi ci sarà veramente da divertirsi. Creerò tanti giocatori anche là, perché purtroppo non tutti ci saranno, per esempio anche i giocatori della primavera, insomma, giocatori così che interessano, ma anche i giocatori brasiliani, perché non so se FIFA prenderà i diritti, i diritti che appartengono a PES. Quindi non so se le squadre brasiliane saranno aggiornate come gli anni passati, perché quest'anno veramente è stato un macello, non c'era un giocatore reale. Quindi, insomma, è un po' anche un po' un peccato. Questa ragazzi, il video termina qua. Vi porterò altri giocatori successivamente. Ci vediamo nel prossimo video con Roberto Matri, 1999 del P. Ah, vi dico un'ultima cosa che mi stavo dimenticando. Iscrivete, insomma, seguite anche la playlist che ho creato con i giocatori, diciamo, della primavera. Ho già aggiunto, vabbè, Prizari, Ken, Caligara, Pellegri e Cutrone, adesso successivamente arriveranno altri giocatori. Quindi consigliatemi anche dei giocatori per la primavera. Ciao ragazzi, da Roberto Matri, 1999 del P. E tutto qui con me, Richarlison. Grazie. Grazie.